Rai o cracco? È un vino che sponsorizza cracco. Occhio che se aspetti troppo poi fa male a pelarlo, eh. Ah no, perché tu hai il prepuzio, holy shit! Assurdo. Sì. Senza prepuzio fa molto male. Perché tu no? Ah già, tu non lo sai, sono circonciso. Eh no, ok. L'ho stato, qua lo sa, almeno 5.000 persone lo sanno. Ah beh, io no. È un classico tema, è un classico tema. Ok, e perché? Cioè, ne esce spesso questo tema che c'è il cazzo? No, mi piace, mi piace dirlo ogni tanto. Perché... Che presenti fai, sai, sono Hank, ho il cazzo... Ho il cazzo pulito. Che volgarità. Ho il pene circonciso, no. No, no, ho semplicemente una maglietta con la foto e si capisce da lì. Però, è un tema che, dato che mi seguono anche tanti ragazzi giovani, è un tema secondo me importante perché la fimosi e altre problematiche che richiedono la circoncisione sono comunque diffuse e non se ne parla e allora magari il bambino, il ragazzo, si vergogna, deve parlare con i genitori, non se la sente così e veramente, almeno una decina di persone mi hanno poi scritto su Instagram, ah, ho trovato il coraggio di farla vedere al mio parroco, è bello. Ma una domanda, ti può circoncidere anche in età avanzata? Certo, io ho fatto 17 anni. Cioè, io se domani vado all'ospedale e dico, voglio circoncidermi. Così devi pagare, se no, se c'è un motivo per cui lo devi fare medico, credo di sì. Quanto costa la circoncisione? 30, eh, dipende dal taglio. Ah, beh, sono ok. Ah, dicono anche la forma come vuoi tu. Io quando ero sul tavolo mi hanno chiesto che taglio volessi. Più rasato ai lati, me lo lasci sopra un po' più lunghi con la frangetta English. Proprio British. Ma no, a me quando ero sul tavolo mi hanno chiesto, mi ha detto che taglio vuoi. Perché puoi tagliare più in basso o più in alto. Ok. Se tagli più in basso rischi che poi ti si richiuda, che è la fimosi, no? Rischi che poi ti si richiuda, rischi che poi ti si richiuda. Se invece tagli più in basso sei nel chilling. Però all'inizio, scusa, io che ho il pene. Tu magari non lo puoi capire. Ma lo conoscerà il pene. No, c'è anche il pene, sì, sì. Sì, ma non è la stessa sensazione. Io, dato che io ho il pene. Ok. È molto sensibile il pene quando adesso lo tocchi. Ok, microfono. Sì, pronto? Pronto? Spermini? Ci siete? Però quando ti... Subito. Non è mega sensibile lì, quindi non dà fastidio. È terribile. La parte più dolorosa della circoncisione è quando la sensibilità si abbassa. Perché io per 17 anni non sono mai stato scoperto. Non sono mai stato scoperto. Ero in... Ero in the closet. In the closet. E quindi quanto è dura sta... Eh, due, tre mesi. Porca troia. Un minchia. E devi tenerlo fasciato? Per il primo mese sì, perché ci sono tutti i punti ed è un colabrodo. Un mese. Quindi immagino che non puoi né avere rapporti né forti delle seghe né niente di niente. Noops. Minchia. Dopo quando devo mettere le tocchi vai... Sì, io infatti mi sono fatto cinque seghe prima dell'intervento. Che sei andato là? Sono andato là, ero un cencio. No, non si restringe. Anzi, sembra anche un po' più grosso, secondo me, perché è tutto esposto. Se dopo l'intervento ti viene una reazione, come fai? Preghi che se ne vada. Che sei orata la quamila da ora... Che sei orata la quamila pregenza?